Al Priuli quando all'abito tre ossi dà il via, il termometro segna meno uno. Udinese ha una punta con il solo Sosa in avanti e centro campo rinforzato. Lazio con l'annunciato debutto di Podboschi. E proprio i campioni si gettono subito in avanti e conquistano tre calci d'angolo in rapida successione. Sul terzo tiro dalla bandierina dello stesso Podboschi, ottimo il suo debutto, e intervento maldestro di Zamboni che fulmina Turci. Alla quarto minuto Udinese 0, Lazio 1. Rivediamo, sfortunato Zamboni sconsolato dopo la sua autorete. Insistono i biancocelesti, Nedvied sulla sinistra, colpo di testa di Crespo e gran risposta di Turci. Decagno corre ai ripari e dà più senso logico alla propria squadra. Al ventitresimo entra Margiotta per Diaz. Simeone a centro campo, lancio al volo per Nedvied. Subito al centro verso Salas che prolunga Crespo, Bertotto cadendo a gioco, e tocca con la mano, tre ossi decreta il calcio di rigore. Bertotto protesta e anche se le immagini non ci aiutano, il capitano Udinese dovrebbe essere stato prima munito, poi per le proteste espulso. Rivediamo comunque l'episodio con Crespo. Eccolo qui il suo tocco, Bertotto scivola la palla, gli rimane proprio sul braccio. Batte Crespo, tiro centrale che Turci tocca solamente. E al trentaseiesimo Udinese 0, Lazio 2. De Cagno cambia ancora, entra Alberto per Volem. Ma la Lazio potrebbe triplicare in chiusura. Favalli trova un brillante affondo, supera Alberto. Cross corto per Salas che conclude fuori. E con le immagini preparate da Paolo Oledda, passiamo alla ripresa, con la Lazio sempre padrona del campo. Pancaro a Podboschi, cross morbido al centro, Zamboni liscia, Salas no e palla in rete. Alla secondo minuto Udinese 0, Lazio 3. Rivediamo anche questo gollo ottimo a Podboschi e il tocco di Salas. L'Udinese trascinata da Fiore si scuote finalmente. Calcio di punizione, batte lo stesso nazionale e la palla finisce in rete. Alla quarto minuto Udinese 1, Lazio 3. Rivediamo la palla veramente imprendibile per Marchegiani. Ma la Lazio non ci sta, Pancaro scende sulla destra, ottimo il suo traversone e Crespo anticipa tutti. All'ottavo minuto Udinese 1, Lazio 4. Rivediamo anche questo gollo. Nella Lazio entrano Ravanelli e Barogno per Salas e Baggio, ma l'Udinese insiste, tiraccio di Zamboni, rimpallo per Margiotta e tiro prontissimo che batte Marchegiani. Alla ventunesimo Udinese 2, Lazio 4. Rivediamo. Il tempo di salutare il debutto in Serie A del 17enne abruzzese Vittorio Micolucci, che c'è ancora Fiore scatenato. Entra in area, mette la palla al centro per Sosa e rete al volo. Il 41esimo Udinese 3, Lazio 4. E termina l'incontro con la vittoria militata della Lazio.